Dallo steccato Bahamas AS, Kenplus Mede SM, Bideale Par, Classic Star FKS, Cressmail, Bibbo SM, Baltimore OP, Bye Bye Laser, Combo Jet, Clara Bellapel, Cesare Augusto DWS, Cosmolux e Cienfuegos Laumar, e Discosta Baltimore OP. Lo sono anche Cosmolux e Cienfuegos Laumar, sono partiti con l'errore di Kenplus Mede SM, e questa è la prima notizia. Al comando Classic Star FKS, con all'esterno Bibbo SM, insolitamente veloce, 14 spiccioli per il lancio. Bibbo SM si presenta su Classic Star FKS per ottenere il via libera, poco prima del paletto dei 400 metri di gara che vanno via in 29 e mezzo. Insiste, passa Bibbo su Classic Star. All'esterno si migliora Alex Gocciadoro con Cressmail, che ora punta in avanti. Nel frattempo Bibbo approda i 600 iniziali in 43-3. Bibbo, Classic Star, Cressmail. Poi Bahamas S lungo i birilli, attacco degli 800 metri di gara che il leader passa in 59 con 15-6 in piegata. In vantaggio sempre Bibbo SM. Nei confronti di Classic Star, richiesta da Mario Minopoli a tenere la scia di Bibbo. All'argo Cressmail, il chilometro se ne è andato via in 1.13.6 da parte di Bibbo SM, che rende ardua la vita a Cressmail. All'argo c'è anche Bide Alepar. Cavalli all'ingresso della retta d'arrivo, si avvicina anche Cesare Augusto DWS. Nel frattempo Bibbo affronta l'ultima curva in vantaggio su Cressmail. E all'argo Bide Ale che prova a proporsi in terza ruota. Bibbo SM ancora in chiaro vantaggio. All'argo il finish di Bide Alepar, ma è tardi. Bibbo SM si afferma su Bide Ale al terzo Cressmail. Quarto Cesare Augusto, io 1.57.5 sul mio cronometro per Bibbo SM. Che oggi ha fatto anche partenza. 7.46 l'arrivo ufficioso Bibbo SM per Giuseppe Immobile nella versione di training e guidatore. I colori di Francesco Pio Pastore, figlio di Mondiale OK, che si afferma nella terza del pomeriggio. 7.46 1.57.5, una misura che si aggirerà intorno all'1.13.5 per chi vince. Bibbo SM, linea agli studi di Roma. Bibbo SM, linea agli studi di Roma.